Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre un milione di interventi ispettivi e circa 74.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i dati forniti dal Comando Generale in occasione del 248esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Le attività investigative e di analisi sui crediti di imposte agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di accertare frodi per oltre 5 miliardi di euro. Sono stati individuati 5.762 evasori totali ed oltre 26.000 lavoratori in nero o irregolari. Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati oltre 69.000. I controlli sul reddito di cittadinanza sono stati scoperti illeciti per 288 milioni e sono state denunciate oltre 29.000 persone. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 1,4 miliardi. Il contrasto al narcotraffico, anche via mare, ha portato al sequestro di quasi 97 tonnellate di sostanze stupefacenti e di 249 mezzi. Complessivamente, l'azione di contrasto dell'immigrazione irregolare via mare ha portato all'arresto di 171 scafisti e al sequestro di 714 mezzi. Grazie. Grazie. Grazie.